Fuori dal campeggio di Marghera, turisti alloggiati a Juvenezia Camping in Town fanno la fila per salire sull'autobus, esattamente come il giorno prima avevano fatto altri ospiti della struttura, coinvolti poi nel terribile incidente del viaggio di ritorno. Questa volta però li riprende un utrito gruppo di telecamere, di televisioni tedesche, francesi e di altre nazioni. Il giorno dopo l'incidente, nel camping di Marghera, il cordoglio si confonde con l'incredulità per una tragedia persino difficile da descrivere. Noi non possiamo fare altro che metterci a disposizione. Tutta l'azienda e tutto il nostro personale sono a disposizione per facilitare le operazioni e dare supporto agli ospiti, alle loro famiglie e ai soccorritori. Reciterà poi il comunicato con le dichiarazioni del direttore generale di Human Company, Domenico Montano. Stiamo inoltre collaborando con le autorità competenti impegnate nell'identificazione dei passeggeri. A Marghera gli autobus continuano a partire. Massimo Fioresi, amministratore delegato di La Linea, l'azienda di trasporto che svolge il servizio navetta tra il camping e Venezia, ha detto a Lanza che dai video dell'incidente si vede come l'autobus procede ad una velocità minima e si appoggi su un guardrail che purtroppo non è un guardrail ma una ringhiera. Tant'è vero, ha aggiunto, che mi sembra che la stiano sostituendo e ci siano lavori in corso giusto poco prima.